Ti piacerebbe avere dei punti cardine sul grafico, da dove tutto può nascere, da dove tutto può svilupparsi? Una lettura primordiale che viene prima dell'applicazione della strategia. Come al solito, non so se questo tipo di lettura, di analisi, è usato anche da altri trader, ma io mi trovo benissimo facendo questa lettura prima di applicare le mie strategie e devo dire che funziona, mi trovo bene. Quindi se vuoi capire come individuare i punti cardine di un grafico, da dove molto probabilmente si svilupperanno le prossime situazioni di trading, ti invito ufficialmente al webinar di mercoledì 11 settembre alle ore 19 esclusivo per la community di Professione Forex, quindi se non sei iscritto alla community ti lascio il link in descrizione per iscriverti e quindi intanto che aspetti mercoledì puoi visionare i nostri webinar passati e il videocorso gratuito e tanti contenuti gratuiti che saranno a disposizione nella tua area sul sito. Questo webinar è interessante dal mio punto di vista sia per i neofiti completi che guardano un grafico e si trovano davvero spaisati, ma anche per i trader esperti che hanno un trading che comunque gli va bene, che cercano i setup delle proprie strategie, ma che hanno sempre sottovalutato o non visto questo tipo di lettura, questo tipo di interpretazione del grafico. Voglio farti vedere come riesco a farmi un'idea primordiale di quelle che possono essere le situazioni interessanti su uno strumento finanziario, dopo poi è chiaro che si va ad attendere la ciliegina sulla torta, il setup, la strategia per applicare. Si sente dire spesso che le strategie non funzionano, guarda io sono sicurissimo che la tua strategia, qualsiasi essa sia, ha sicuramente del buono, ma se non si impara a farsi un'idea di quelli che possono essere i movimenti del prezzo a prescindere dal mero setup, la pin bar, la divergenza, qualsiasi cosa complessa o semplice che tu abbia imparato ad individuare, ma c'è bisogno di avere dei punti di riferimento, altrimenti si rischia di fare un sacco di cavolate andando dietro alla propria strategia. Spero che sarà tutto di tuo gradimento, se vuoi essere dei nostri iscriviti alla community e riceverai notizia del webinar. Un caro saluto da tutto il team di Professione Forex, ci vediamo mercoledì. Ciao!